Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare questo nuovo microfono della Tonor, un microfono a condensatore ed esattamente il Tonor TC30. Un microfono, come detto poc'anzi, a condensatore, veramente spettacolare, professionale e per una spesa veramente, veramente irrisoria, in offerta al momento a 33,99€, se no ne costerebbe 55€, ma comunque anche a prezzo pieno, diciamo sull'ordine delle 50€, vi portate a casa un microfono veramente spettacolare e soprattutto, a parte per il gaming è perfetto, ma se fate anche stream è veramente, veramente per me uno dei top della gamma e anche e soprattutto qualità e prezzo è veramente spettacolare, ma tanto poi nel corso del video ve lo faccio vedere direttamente in prova durante le mie live su Twitch. Dopo la sigla. Il TC30 di casa Tonor è un microfono economico però dalle grandissime prestazioni e che vi darà tante anche opportunità di avere una qualità audio veramente eccellente per una spesa ridotta. All'interno della confezione trovate ovviamente il cavo, il cavo USB con ingresso piccolo e uscita grande per connetterlo direttamente al microfono e al computer, cavo di tipo C, tre piede tra l'altro pieghevole fatto veramente bene che tiene la posizione dove lo bloccate e in più vedete c'è anche una levettina per andare ad allargare e a stringere il microfono al momento che gli avete dato la posizione giusta. Il microfono è mobile come potete vedere che deve stare veramente così ed è qui dietro intanto c'è l'attacco USB ed è tenuto da dei lacci, da degli elastici comunque belli resistenti che lo tengono praticamente un pochino mobile che sono intrecciati e incastrati qui. Voi praticamente prendete e ci andate a mettere il microfono più avanti o più indietro per come vi piace a voi, ma un consiglio che vi posso dare, che ho visto anche in altri video, cercate di tenerlo non attaccatissimo qui davanti alla mascherina che fa anche da filtro per la voce, che ora poi vi faccio vedere come si va a montare direttamente, cercate di non tenerlo proprio attaccato, attaccato, tiratelo leggermente indietro con gli elastici, tiratelo un po' fino a che non trovate la giusta distanza e che sia tipo a, veramente a qualche millimetro, che non ci sia premuto contro, semplicemente. È ovviamente un plug and play, non c'è bisogno né di montarlo né di assemblarlo, l'unica cosa regolate un po' qui, come vi ho detto. Per il vostro tono a conto non lo mettete che sporge troppo, al massimo un centimetro o mezzo o due, anche perché poi se no si allontana troppo dalla mascherina. E poi c'è ovviamente la sua mascherina del toner, che è il classico filtro per prendere bene la voce e per non captare anche gli esterni, perché un microfono a condensatore come questo, se nella stanza non aveste questo qui, cioè si sentano anche tutti quanti i rumori della stanza, ad esempio, poi va settato per quanto è un plug and play, però uno lo vuole perfetto se lo setta un po', si sentano anche click del mouse e cose del genere. Questa direttamente l'andate a far scorrere così a slitta qua dentro, fino a che non fa un clack e siete pronti. Ve l'ho detto, consiglio, spensierato, lasciatelo qualche millimetro di distanza, un'unghia. Ci deve passare un'unghia, non attaccato. Il microfono da solo misura 15 centimetri, mentre la struttura, questa qua, tutto quanto, vedete, tre piedi e tutto, senza il microfono è 19 centimetri di altezza e 15 di larghezza. Lo vedete come dimensione, ora a parte il tavolino che abbiamo davanti, circolare, è bello grande, è un tavolino bello grosso per giocare il board game, ma comunque prende poco spazio. Quindi la classica, un po', location di quando si fanno le live e le stream è tenerselo un pochino angolato, non per forza diretto davanti, ma anche un pochino angolato così che capti bene la vostra voce. Non troppo vicino né troppo distante, quello giocate un po' voi con le impostazioni, io lo tengo di solito a questa distanza, parlo con questo tipo di voce, con questo tono di voce, senza urlare e mi sentono benissimo. E infatti, come detto, grazie a questa mascherina importantissima, che è il pezzo più importante forse davvero di tutto quanto il toner, è che è andata a sopprimere i rumori, quindi è una cosa molto importante perché capterà bene la vostra voce, perché lo dovete angolare nella direzione giusta, però meno, ovviamente, suoni della stanza e ambientali. È compatibile con Mac, PC e PlayStation 4, solo che per la PlayStation 4 richiede un adattatore. Invece, purtroppo, per almeno questo modello, per telefonini ed Xbox non è compatibile. Lo potete usare per parlare con gli amici su Skype, per farvi una chiacchierata fra amici, per farci una stream, anzi, io ci sto facendo le stream, le live, mi ci trovo veramente benissimo, per fare una registrazione, registrare un video. La cosa bella è che è un plug and play. Prendete il cavetto, lo collegate, non ha nemmeno bisogno di installare i suoi driver. Direttamente plug and play, attaccato, ovvio. Se volete una qualità non tanto eccellente, perché già lo è, quanto molto personalizzata, quella qualità lì la andate a cercare voi con le impostazioni. Comunque, è un modello assolutamente eccellente. Poi, ovviamente, nella sua scatola trovate, che poi arriva anche boxato bene, devo dire la verità, tutto quanto diviso bene, i pezzi, il cavo e quant'altro, trovate il suo manuale, delle istruzioni, trovate tutti quanti i cavetti, la mascherina da montare, insomma, c'è tutto quanto, il treppiede e tutto quello che avete visto, più il cavetto, che è quello appunto di tipo C, della lunghezza di 2 metri. Quindi, ora si è un po' arrotolato, scusate, perché fa dei giri strani quando mi arriva il computer. Comunque, veramente eccezionale, un prodotto eccellente. Primo link in descrizione per dove andarlo direttamente ad acquistare. Vi ricordo che ora è un'offerta su Amazon, ma a prezzo pieno, costa comunque 55 euro, che per un microfono del genere è competitivo da morire. Al solito toner si dimostrano i migliori in assoluto nei microfoni. E ora vi faccio vedere un sunto, un taglio, di una delle mie ultime stream, così vedete direttamente la qualità. Sia chiaro, non ho giocato con le impostazioni, a parte quelle di OBS, niente. Preso, montato, incavettato e attaccato al computer, questo è la sua qualità. Ciao ragazzi, alla prossima. Salve signor Memo, sono un lupo mannaro. Memo! Col pulsante centrale. Pronto. Eh, signor Memo, che gira da queste parti? Mi sono perduto, ho streghetta. Dove va? Dove sta andando? Faccia attenzione. Sono zone molto pericolose. Sto cercando un posto dove costruire il mio castello, il mio dominio. Marly bellyína. Va? bagurato. Visi. Là. kişi.